VAR Directs 2019 è praticamente una esercitazione che va a implementare il dispositivo militare con quello civile, in particolare a rimarcare le sinergie tra l'Associazione Nazionale Alpini, parte protezione civile e la Forza Armata Esercito. VAR Directs 2019 è una serie di eventi calamitosi che investono il nord-ovest d'Italia e il dispositivo sinergico di protezione civile, l'Associazione Nazionale Alpina, che insieme all'esercito soccorre in prima battuta le popolazioni colpite, colpite da eventi alluvionali ed eventi sismici. Verranno messi in essere degli eventi dell'attività per quanto concerne degli eventi calamitosi e quindi attraverso la direzione esercitazione verranno coordinati in sinergia con la protezione civile e l'Associazione Nazionale Alpina i primi soccorsi alla popolazione colpita. In questo scenario si simula, come ha detto il tenente precedentemente, un evento sismico alluvionale, contemporaneo, quindi una grossa difficoltà per quanto riguarda la macchina dei soccorsi che spinge ad utilizzare il nostro assetto misto. Il nostro assetto misto è un assetto specializzato, logistico, operativo, in cui noi ANA, l'Associazione Nazionale Alpina, ci occupiamo per la gran parte della parte logistica di supporto, mentre la parte esercito mette il grosso delle macchine operatrici e la forza, chiamiamolo movimento terra, grandi macchine e mezzi. Come dicevo, è il secondo anno che affrontiamo questa esercitazione, quest'anno stiamo testando e affinando le strutture di comando e controllo che poi saranno le prime a interfacciarsi con gli enti nei momenti d'emergenza. In questo specifico posto, qui lei vede la Direx, anche questa Direx da quest'anno, che è il secondo, è mista, quindi c'è una componente ANA e una componente militare, a sottolineare questa integrazione che stiamo spingendo sempre di più. L'obiettivo è, in quattro anni, di portare a regime un nucleo di intervento misto, prontamente operativo, a disposizione del nostro Paese.